Sono Paolo Bisogni, sono presidente di iLog, due parole per presentare la mia associazione, uno degli organizzatori di questo convegno. iLog è l'associazione dei logistici italiani, è un'associazione professionale abbastanza antica tra le associazioni, è stata fondata nel 78 e si occupa prevalentemente, anzi direi esclusivamente, della diffusione della cultura logistica in Italia. Lo zocco e lo duro dei soci di iLog sono sostanzialmente logistici industriali e l'associazione si pone nella finalità di sviluppare le competenze professionali dei logistici, sia attraverso strumenti formali come la formazione manageriale, abbiamo un programma di formazione molto ben sviluppato, molto bello, che vi invito a visitare sul nostro sito, costruito su un'impalcatura che è il framework di competenze sviluppate in Europa da ELA, la European Logistics Association, sia in momenti come questo, il confronto fra i professionisti in occasioni di convegni, sia in maniera informale, meno strutturata, più tipicamente associativa, come sono i tavoli di lavoro piuttosto che le cene dei soci. Una volta all'anno con il nuovo mandato di iLog ci troviamo idealmente tutti a cenare assieme, a chiacchierare, ben consapevoli che il fatto di poter essere su tutto lo stesso tavolo, strofinare i gomiti, chiacchierare delle tematiche che ci interessano maggiormente rispetto al nostro lavoro sia un'occasione preziosa. I tavoli di lavoro attivi in iLog sono in questo momento tre, uno sull'outsourcing, uno sulla logistica collaborativa e uno sui trasporti sostenibili. I tavoli sono aperti a chi ha intenzione di lavorarci e di collaborare, se vi interessa alzate la mano, chiamatemi, io sono comunque raggiungibile in qualunque modo, in associazione, via mail, il mio indirizzo mail è semplicissimo, paolo.bisogni, chiocciola, aero.it, presidente, chiocciola.it, dove volete comunque mi trovate molto facilmente. Pensando a che cosa dire in questo convegno, uno dei temi che maggiormente, a mio modo di vedere, impatta sul nostro modo di lavorare è la declinazione della strategia in azioni concrete. Uno dei temi che Alessandro Perego ha toccato cinque minuti fa. Qualunque strategia è inutile se non si declina in una serie di progetti o di azioni tattiche, se vogliamo mantenere il gergo militare, in azioni tattiche che permettono alle aziende di raggiungere i loro obiettivi sul campo. Questo è il tema di fondo. Non possiamo rimanere fermi a livello degli assetti. L'attenzione, molto spesso anche della pubblica amministrazione, è per gli assetti, per le regole di governo. Ma, ma questo possiamo dirlo da logistici, se ci interessa veramente raggiungere una maggiore efficienza in quello che facciamo, dobbiamo partire da quello che facciamo e il modo in cui lo facciamo. In altri temi dobbiamo partire dai processi operativi. Dobbiamo interrogarci su come facciamo le cose e dobbiamo chiederci se il modo con cui abbiamo sempre fatto le cose sia il migliore possibile oppure se non sia migliorabile. Se non siano possibili sequenze diverse nelle nostre attività che ci permettono, per esempio, di spendere meno in quello che facciamo. L'idea di fondo del VMI, che è un acronimo, sta per Vendor Managed Inventory, le scorte gestite dal fornitore, che è una tecnica molto simile al contodeposito, ma poi vediamo bene le differenze. L'idea di fondo del VMI parte da questa osservazione. Se due aziende, in una qualunque relazione, hanno ciascuna un magazzino e una spedisce all'altra, la ragion d'essere di questi magazzini, la ragion d'essere di queste due scorte è sostanzialmente fronteggiare l'incertezza. Il motivo per cui sviluppare una scorta in ospedale, il motivo per cui sviluppare una scorta nelle aziende fornitrici dall'altra, è il fatto che la domanda fluttua. Siccome non sono in grado di prevederla precisamente, allora io mi tutelo da questa imprevedibilità facendo una scorta. Il punto di fondo del VMI è, ma se aumentiamo il livello di collaborazione, se aumentiamo il livello di informazioni scambiate fra i due soggetti, quello che sta a destra e quello che sta a sinistra, siamo sicuri che sia ancora necessario mantenere i due magazzini? Perego diceva pochi minuti fa, abbiamo circa 40 giorni di scorte in media nel largo consumo dalla parte dei produttori e 20 giorni di scorta dalla parte dei retailer. Sono 60 giorni di scorte, ma siamo sicuri che serva essere coperti 60 giorni? Il motivo per cui le scorte sono così alte è che sostanzialmente le aziende si parlano poco, aumentando il livello di comunicazione, parlandosi di più, ovvero dicendosi puntualmente quanto ho consumato ieri e ieri l'altro e il giorno prima, probabilmente si può abbassare il livello delle scorte. Ho bisogno di meno sicurezza, perché la scorta è la mia assicurazione contro l'incertezza. Se accettiamo di parlare con i fornitori in maniera diversa, più puntuale, comunicandoci esplicitamente quanto stiamo consumando, probabilmente posso ridurre la quantità di scorta che serve per tutelarmi dall'incertezza. Questa è l'idea di fondo del VMI, niente di più. Sviluppate un po' di più. Se addirittura ammetto che il mio fornitore possa fare un passo avanti e venire a mettere il naso dentro il mio magazzino, probabilmente dei due magazzini uno lo posso eliminare. Se ammetto il fatto che il fornitore venga, come si faceva una volta con il merchandiser, a verificare il livello di scorte sul mio scaffale e gli permetto di rifornirmelo, probabilmente io devo ridurre l'attività che sto facendo. Sicuramente posso ridurre il livello delle scorte e quindi ottenere quei risultati di cui abbiamo appena visto, sostanzialmente la riduzione del capitale immobilizzato in scorte, che è un obiettivo di efficienza importantissimo. Questa è l'idea di fondo. Perché proprio il VMI? Perché mi piace. Perché mi piace, perché ho fatto qualche progetto, perché i numeri mostrano che sono possibili, perché sono possibili dei risultati assolutamente importanti. Ricordo incidentalmente che la logistica e il supply chain management non sono una scienza, somigliamo più all'artigianato, e quindi sono una combinazione di tecniche, tecnologie e competenze che messe assieme, gestite dalle persone, permettono di raggiungere dei risultati importanti. Quindi non dobbiamo approcciare queste cose in maniera deterministica. Dobbiamo approcciarle come le approccierebbe appunto un artigiano. Un insieme di competenze e di tecniche che messe insieme gli permettono di raggiungere un obiettivo. Allora, il VMI è sostanzialmente uno strumento di pianificazione della filiera logistica e è uno strumento che appartiene alla famiglia degli strumenti per la gestione delle scorte, la cui caratteristica fondamentale è questa. C'è un'azienda fornitrice la quale ha l'accesso ai dati di consumo e di scorta del suo cliente. Ovvero il cliente gli dice periodicamente, giorno per giorno, settimana per settimana, con credenza abbastanza ravvicinata, quanto ha in magazzino e quanto ha consumato l'istante precedente, il giorno precedente. La seconda caratteristica fondamentale è che il fornitore che è responsabile di mantenere i livelli di scorta su parametri concordati. Quindi le aziende devono dirsi quanta scorta hanno, quali sono stati i consumi e soprattutto quali sono i livelli di scorta attese. Il fornitore dice dimmi quanta scorta vuoi avere, dimmi la scorta minima e quella massima, io te la reintegro. È uguale al conto deposito? Non proprio. Si assomigliano. Il conto deposito, questo dopo, il conto deposito è una tecnica che ha un'enfasi, ha una natura, ha un'origine, è un'enfasi marcatamente amministrativa. Nel conto deposito il fornitore dice ti metto a disposizione una scorta di materiali, mensilmente mi dici quello che hai consumato e me lo paghi. Il VMI è un'enfasi logistica. Non si dice qui c'è un gruzzolo, qui c'è una montagnetta di materiali, poi mi dirai quelli che hai consumato. Si dice ma tu dimmi che scorta vuoi quei materiali e io te la reintegro. E normalmente nel VMI è il fornitore stesso che fa la proposta d'ordine. Quindi dal punto di vista amministrativo in realtà è un po' più tradizionale. Lo si può fare anche come conto deposito, però in realtà non è quella l'enfasi. Il conto deposito ci dà un ritardo nei pagamenti. Il conto deposito è migliorativo perché sostanzialmente ci ritarda l'esborso di un mese o due. Il VMI riduce le scorte perché riduce l'indeterminazione, riduce l'incertezza e quindi lavora con scorte più basse. È uno strumento potenzialmente che ha una leva maggiore. Ci può dare un risultato maggiore. È una natura tipicamente logistica. Dimmi che scorta vuoi avere? Dimmi quanto hai consumato ieri e io te lo reintegro. Allora, se vogliamo entrare in dettaglio del processo più o meno le cose funzionano così. I dati di consumo vengono trasmessi dall'utilizzatore. Quanto è stato venduto sullo scaffale e quanto è stato consumato nei magazzini di reparto in ospedale, per esempio. Questi dati vengono storicizzati perché in realtà potrebbe essere furbo e utile oltre ai dati di consumo effettivi provare a fare le serie storiche e tirarci fuori un forecast, una previsione di consumo. Viene calcolato un fabbisogno lordo perché trasmettendo i dati di consumo e trasmettendo le scorte io posso dire avevi dieci a scorta e hai consumato tre e vuoi mantenere dieci a scorta il tuo fabbisogno è tre. Dopodiché però vengono inseriti altri fattori esterni. Il fabbisogno effettivo può variare possono esserci delle stagionalità possono esserci delle situazioni particolari che si vogliono gestire il livello di scorta atteso potrebbe essere un dato dinamico da variare. Tenendo conto anche di queste cose il fornitore calcola un fabbisogno netto cioè il totale da spedire e molto rapidamente spedisce e reintegra le scorte presso il suo cliente. Non è fatta menzione di dove stia il magazzino perché dipende dai particolari assetti si può decidere di lavorare con due magazzini un centro distributivo da una parte e magazzini di reparto dall'altra si può decidere di ridurre le scorte dalla parte del produttore tutto da progettare nel dettaglio ma il punto è sicuramente una tecnica che riducendo l'incertezza permette di ridurre le scorte sia da una parte sia dall'altra. Somiglia a conto deposito perché storicamente è nato così possiamo vederlo in un certo senso appunto è una tecnica artigianale è una combinazione di EDI just in time e il merchandising o il conto deposito in questo l'elemento forte è però la tecnologia perché questo funzioni perché un sistema di WMI funzioni bene sono necessari è necessario prima di tutto un'infrastruttura di telecomunicazione efficiente una qualità dei dati ottima bisogna parlare lo stesso linguaggio in termini di codifica dei prodotti e unità di misura e devo avere dei sistemi informativi che siano più che dignitosi devo essere in grado di lavorare sulle scorte con dei sistemi moderni altrimenti il sistema non sta in piedi l'elemento innovativo del conto del WMI è che è una tecnica marcatamente collaborativa nella relazione tradizionale cliente-fornitore il fornitore si limita ad eseguire un ordine in buona sostanza nel WMI invece il fornitore anticipa l'emissione dell'ordine addirittura potrebbe proporlo potrebbe proporlo lui sulla base di cosa? di un parametro di scorta la relazione non è né amministrativa né commerciale ripeto marcatamente logistica dimmi la scorta che vuoi e io la eseguo e la reintegro è innovativo perché richiede sistemi informativi diciamo almeno affidabili di buon livello un'infrastruttura di telecomunicazione IDI o internet che stia in piedi e naturalmente funziona se da un punto di vista commerciale entrambe le aziende rinunciano a comportamenti opportunistici sostanzialmente è un modello che funziona su periodi e relazioni assetti contrattuali ragionevolmente stabili non posso cambiare idea domani mattina e comprare un prodotto alternativo dal fornitore dietro l'angolo che mi fa pagare un centesimo meno questo qui sarebbe un comportamento perturbativo reintegrare le scorte non attraverso il canale prefissato ma attraverso un altro non funziona provoca alterazioni al sistema per cui sostanzialmente mi fa sballare i calcoli sulle scorte quindi un prerequisito perché questa tecnica funzioni e che la relazione contrattuale sia stabile su periodi di tempo medi un paio d'anni tre anni dipende specificamente certo certo non segue una logica di tipo speculativo non posso andare da chi mi fa il prezzo migliore domani ok e certamente una prassi collaborativa allora benefici abbiamo visti detto Alessandro poco fa è stato inventato sicuramente sicuramente in ambito industriale o commerciale chiamiamolo come vogliamo ma è stato esportato con successo anche nell'ambito direi marcatamento ospedaliero non sanitario ci sono casi di successo assolutamente sì un badalufo basta che andiamo a vedere in letteratura in Italia mica tanto quindi anzi diciamo zero c'è tanto da lavorare però io dico una cosa siccome non è drammaticamente diverso dal conto deposito nei meccanismi di funzionamento a parte l'aspetto del calcolo delle scorte e della comunicazione in realtà non è una tecnica completamente aliena ai nostri modi di lavorare usuali vale la pena metterci il naso dentro e capire se non possa essere adottata in giro per il mondo è stato fatto assolutamente sì ho preso due due soli casi ma ne troviamo facilmente almeno una ventina in letteratura sono tutti recenti successivi al 2000 chiaramente la tecnica è moderna allora la Leaky Clinic di Barrington è considerato uno degli ospedali d'eccellenza degli Stati Uniti è un ospedale relativamente piccolo potremmo definirlo con abuso di linguaggio un ospedale privato accreditato è un ospedale universitario sono fortissimi per esempio in ambito in ambito urologico qualche anno fa nel 2008 per l'esattezza hanno messo in piedi un sistema di VMI per la fornitura di farmaci presidi e dispositivi e protesica con un unico fornitore che non vuol dire comprando tutti i materiali da lui ma usando il fornitore come un operatore logistico un concentratore di materiali via un concentratore di materiali questo progetto ha avuto un successo incredibile e ha portato dei risultati assolutamente interessanti hanno cambiato un po' il modello logistico allora in precedenza avevamo che il fornitore spediva all'ospedale per esempio alla farmacia centrale al magazzino centrale indipendentemente le forniture che venivano poi distribuite in unità operative il solito il solito sistema se usiamo una tecnica d'analisi molto simpatica si chiama touch analysis è uno strumento un po' lean che dice dimmi quante volte manipoli i tuoi colli contali conta quante volte prendi in mano lo scatolone l'idea è che meno li tocchi e meglio è perché perdo meno tempo e introduco meno costi di movimentazione allora in questo assetto tradizionale io devo fare il picking e il carico lo scarico dell'automezzo faccio nuovamente il picking in farmacia e poi vado in consegna all'unità operativa come minimo 4 manipolazioni con l'assetto della leaky clinic è stato costruito fatti specie da cardinal però un centro distributivo a circa un'ora dall'ospedale che va in consegna direttamente con unità di movimentazione pre preparate una sorta di kit con abuso di linguaggio utilizzando contenitori standard in magazzino il rifornimento viene preparato già in funzione dell'ordine della richiesta fatta dal reparto va in consegna direttamente la farmacia centrale è vista come una delle unità operative servite e se ripetiamo la touch analysis abbiamo sostanzialmente due momenti in cui ciascuna cassetta ciascuna unità di movimentazione viene movimentata e quindi abbiamo una riduzione anche dei costi di handling il bello del WMI è che posso facilmente implementarlo costruendo un centro distributivo ad hoc ottenendo questo tipo di vantaggio l'altro caso questi sono americani uno può dire se è sempre il solito ci vieni a raccontare sì è vero allora ho preso uno dei paesi più piccolini più sfortunati d'Europa e vai a scoprire che persino i portoghesi in un ospedale delle Azzorre in un ospedale pubblico questa volta hanno implementato più o meno negli stessi anni 2005-2008 un sistema un sistema WMI che ha circa le stesse caratteristiche ancora una volta viene costruito un centro distributivo che ha la responsabilità di verificare i livelli di scorta scusate dei reparti delle unità operative e reintegra le scorte sulla base di parametri di scorta concordati un meccanismo tutto sommato semplice il progetto fatto all'ospedale del Santo Espirito fu in realtà un progetto di lean management utilizzando strumenti strumenti anche WMI e quindi diciamo hanno preso due piccioni con una fava ne hanno approfittato per ridurre anche le percorrenze e i tempi di esecuzione i risultati in termini di incremento di efficienza sono stati assolutamente tremendi da questo punto di vista proprio nel senso di quanto si può risparmiare sull'handling sulle operazioni di movimentazione oltre che sulle scorte io con questo ho finito la mia idea era molto semplice ripeto l'osservazione di partenza che nessuna strategia serve se non viene declinata in azioni concrete che possono portare un risultato concreto è l'insieme delle tattiche che ci porta ad un risultato economicamente e operativamente importante seconda questione dobbiamo partire dalla realtà dobbiamo partire dal contesto concreto e magari anche dalle esperienze precedenti esistono delle tecniche come voi mai che sono la generalizzazione o forse la razionalizzazione che mettono un po' a posto delle prassi che noi già utilizziamo come potrebbe essere il contodeposito solo che guardano le cose da un punto di vista un po' diverso da un punto di vista per noi più familiare che quello delle scorte devo ottimizzare la gestione delle scorte ma allora lascia che sia il fornitore a reintegrare a patto di parlarsi di più a patto di comunicarsi i consumi i livelli di scorte attesi e i livelli di scorte effettivi a patto di utilizzare sistemi informativi in grado di sopportare una buona qualità dei dati e una velocità di comunicazione grazie buon lavoro a più tardi a più tardi a più tardi a più tardi